C'è un 118 per la risposta sanitaria, H24, 365 giorni l'anno, un intervento immediato, ecco, dal 2025 sarà così anche per i servizi sociali. Si chiama SEUS, Sistema Emergenza Urgenza Sociale, un progetto che da oggi prende avvio anche nella zona retina. L'obiettivo è quello di rispondere alle emergenze che sul territorio avvengono giornalmente, in modo strutturato, in modo appropriato, integrando tutti i servizi che possono essere interessati a seconda delle situazioni che quotidianamente si possono incontrare sul territorio. Il servizio serve proprio a far sì che anche nel caso di situazioni in emergenza si riesca tutti insieme, tutti i servizi, quindi ospedale, territorio, ma non solo, anche i servizi comunali, a rispondere in maniera corretta. Il SEUS è un pronto intervento sociale regionale, uno strumento di secondo livello per rispondere alle situazioni di emergenza sociale, personale o familiare, ma anche a situazioni di violenza ed abuso nel percorso di rete codice rosa, abbandono, non autosufficienza e anche condizioni di povertà. Inizia quindi con oggi, per sei mesi, un periodo di formazione, di sperimentazione, per verificare che le situazioni di emergenza-urgenza abbiano il corretto procedimento, il corretto rapporto anche con la centrale operativa SEUS che opera a livello regionale e che è quella che poi attiva la risposta nell'emergenza-urgenza 365 giorni l'anno per 24 ore al giorno. Quindi è una centrale che è sempre aperta e che è sempre operativa. Se questa sperimentazione interna darà buoni frutti, come tutti noi immaginiamo, visto la grande motivazione e partecipazione di tutto il personale, di tutti gli assistenti sociali a questo momento formativo, da gennaio potremo consegnare ufficialmente il numero dell'emergenza-urgenza agli assistenti sociali del territorio, alle amministrazioni, alle forze di polizia e al pronto soccorso con degli step che avverranno gradualmente ma che poi porteranno a regime tutti gli interlocutori e tutti gli attori del sistema a poter usufruire di questo servizio.